Nel barbolo a cercare Guarini, cioè Bupi da questa parte alto, ecco lo servizio con un buco velo d'era, veniamo capitano, cosa cerca di fare? Spartan Dripic si accentra in decisione, si amlata e vai, attenzione, fanno la scama del delito, in grado, la contravolta in grado, a Gini e Goro, 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 Gini e Goro! eccolo qua un po' l'altro un po' il bambino un pallone un tantito un palla lunga cercare sulla laterale esterna anche dopo che parte con rapidità attenzione e poi il pallo il bambino è costringe all'errore e... mi sapevo che Cassano ha provato un frutto con person suo Ma che vero? Che? Dicono di sì e allora la rimezza poi rimane insieme al d'accordo Cassano ha subito la parola di Branca attenzione, traiglio c'è capito Cassano! è il suo volo! Attenzione! È il suo volo, attenzione! MENSA! 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 un po' un minuto L'ho è di troppa facendo entrare appunto attruscato al posto di Jonathan non particolarmente rispetto a Lugiaz Massa e la performance del brasiliano però l'ha tenuto di essere arrivata che si trova solo da qualche giorno valla che viene recuperata da Guarini e poi Snider poi Campiasso sul disturbo si allarga colpo per l'Esanetti Gargano nitronomo del centrocampo del Razzurro attaccato per Puccini, uno stretto è uno spazio per noi poter giocare, Milito è solo, il principio, il tiro, grande palla, grande palla dentro, bellissima, l'occasione del 3-0 durante la palla d'oro che viene messa da Puccini per Milito, solo contro Perin, allarga troppo il colpo e rimanga la doppietta in prima giornata di campionato, parla che dice di un 42 centimetri, 44, il primo gioco campionato italiano ovviamente cercano di mettersi in buona mostra, ballone di Milito per Coutinho, Coutinho per Sniaga c'è un brutto pallone, l'amico non se ne accorga, l'amico è inversa, forse era meglio avere una polizia a favore, rimangono con Tevic sulla posizione, sulla terraria di Banzano, pronta ad andare a cross con Salenti con la palla, quindi la palla ce l'hai tu, non ce l'ha, quindi già tutti possono fare i gol, finché ce l'hai tu hai sempre una possibilità per trovare un barco e andarla a fare sul gol, Ranocchia si avvicora in una zona rinchiosa, poi ha un retro passaggio a piedi, con Tevic e Castellanti, che riscusa, andiamo con la posizione dei ragazzi a calciare via questa palla, l'avevano messo nel latino, però ricominciamo la palla noi, adesso con Coutinho, con un lobby di Regorini, buona controllo, mette al testa, controlla e appoggia in proprietà per Milito, ha avuto la palla del 3-0, regalare a cross con Coutinho, GOOOOOO! 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 GOOOOOO!